E anche i testi stessi hanno questi forti ancoraggi siciliani. Vi chiedo, Sgalambro, cos'è la Sicilia per lei? Bisogna parlare, credo, di un fatto della Sicilia, del luogo in cui uno vive. Ma non è che il luogo in cui uno vive subisce passivamente il fatto che uno vive viva, ma ti manda qualcosa, tramescola a quello che tu pensi, alle tue emozioni, si tramescola in se stessa. Cioè, insomma, io sono io e la Sicilia, sono io e questo luogo dove vivo, non posso ignorarlo, non posso escluderlo, sarei colpevole di un'astrazione malfatta. Naturalmente, a partire da qui, posso poi fare tutte le astrazioni possibili, ma questo è un punto di partenza. Io sono io e le circostanze della mia vita. Entra fra le circostanze il fatto che io vivo in Sicilia. Dicevo all'inizio che ho una qualche, come dire, soggezione a stare con voi. Dicevo all'inizio che ho una qualche, come dire, soggezione a stare con voi. Dicevo.